I pescatori di Chioggia contro quelli del Polesino, fra loro ormai è guerra aperta su chi ha il diritto di pescare un mollusco pregiato che si trova nelle acque del Delta del Po. Una piccola guerra del Delta che può anche far sorridere al confronto di quella ben più tremenda che si combatte nel Golfo, ma i nostri contendenti si lanciano anche fucilati a pallettoni da caccia al cinghiale e qualcuno è già rimasto seriamente ferito. Noi questa sera metteremo a confronto le loro opinioni e le loro ragioni, oltre a occuparci anche di altri fatti di cronaca. Arrivederci quindi con i consueti appuntamenti in linea continua, ma ricordate questa sera alle 20.30 su Rete4.